con profili. Dimmi un commento su questa partita. Intanto voglio fare i complimenti alla squadra avversaria che comunque ha meritato la vittoria, ha sfruttato i nostri punti deboli che sono le palle imbucate, in velocità, ci hanno purgato per quattro volte consecutive. Purtroppo siamo venuti a questa partita molto rimaneggiati, con alcune persone in campo che erano anche influenzate e infortunati. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare, però purtroppo la partita non ha girato bene per noi. Nonostante il primo tempo avete giocato un'ottima partita. Secondo te il risultato è un po' bugiardo? Sì, credo che il 4-1 sia troppo largo per quello che ha fatto la squadra. Ci siamo mangiati tanti gol e loro invece hanno sfruttato quasi tutte le occasioni che hanno avuto. Quindi c'è un po' di rammarico non aver sfruttato quelle che erano potenziali occasioni della gol. Grazie e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.